Sono il simbolo di questa giornata che ormai ricorre da quanti anni e veramente vi voglio ringraziare perché non potevamo avere un testimonia più bello di te. È stata una gioia e menta averti qui con noi, speriamo che sia dato un rapporto che durerà nel tempo anche con la tua famiglia e ovviamente con quella di Mauro. Grazie da fuori, grazie. Ovviamente siamo un alberghiero e quindi cominciamo anche le nostre dolci, dolci che hanno fatto i ragazzi, in un calcine del Natale sempre deve collegarci con la sua idarietà. Gli ultimi dieci giorni i laboratori lavorano solo per la produzione di dolci, dolci che vengono poi offerti alle famiglie con un piccolo contributo che fa in beneficenza.